bilanciatissimo dall'altro c'è gente arrancata argento e diamante immagino monster hai scelto batu vero mi è sempre piaciuto tantissimo il franchise di ghost in the shell non è un franchise come non è un franchise non è un franchise perché praticamente tutte le opere tranne questo videogioco sono state fatte dallo stesso visto sì ho capito ma siccome c'è anche il videogioco è un franchise come no dove state andando ma lo sapete dove state andando da solo un cazzo ti ho aiutato io sto qua dietro scemo ciao monster ma non dovremmo organizzarci guardarci le spalle tripla uccisione occhio ma quanti sono cosa c'è un esercito tre porco giuda come si ho capito che rispondono però sì ma sono tutti uguali loro perché li vedi tutti uguali ho capito c'è uno che è saltata la testa ti vendicherò io non ha funzionato come avevo previsto ma non sono guidati i missi vacca di una puttana c'era uno che non muore non mi trovo proprio con questi missili c'è uno che mi ha ucciso sono respawnato immediatamente a fianco e l'ho riusciso e dai ma non è possibile granate bombe a mano eh dopo una tripla uccisione sono stato ucciso ho uscito una super deathmatch super deathmatch chiamano tu chiamano tu chiamano chiamano che ho ammazzato qualcuno di là io cerco qualcuno di là eh ce ne sono due ce ne sono tre ce ne sono mille eh perché siamo sul loro spawn ah bene sta arrivando un'armata va caggia di una miseria però c'è l'assist stavolta l'ho beccato uccisione razzo uccisione razzo cazzo razzo vendetta vittoria ho avuto passo rapido cosa vorrà dire però non mi piace questa storia dei razzi devo dire la verità no ehi distruttore sono stato io stavolta sono al primo posto ragazzi a